Fede, scusa, aspettiamo qualcuno? Il nostro vicino. Te l'ho detto ieri, non ti ricordi? Ehi, siete voi! Ciao Federica. Forse è il momento di affrontare l'argomento, non pensi? Giulio, ti prego. Ma è l'occasione perfetta. Comunque abbiamo pensato che oggi fosse il momento giusto per scusarci. No, ma non vi dovete preoccupare perché veramente non abbiamo mai sentito niente. L'ultima volta che l'hanno fatto, pensavo ci fosse il terremoto. Noi invece non vi abbiamo mai sentito. Non ci hanno mai sentito. Tocca, non ci sta affettuoso, facciamo vedere che anche noi abbiamo contatti fisici. Quando vuoi mi fai un segno, io capisco e ti tocco a culo. In fondo noi siamo invidiosi di loro. Adesso spiegami perché noi dovremmo essere invidiosi dei nostri vicini. Voi parlate dei nostri orgasmi? Non riesco a capire a quanto... Il sesso non è nel corpo. Il sesso è qui. Ma che fai? Aveva così. Volevamo farvi sapere che ci farebbe piacere avere delle esperienze con voi, noi quattro insieme. Hai sentito Giulio? Sì, ma faccio finta di no. Ma quando sarebbe? Perché noi nel weekend siamo un po' impegnati con la bambina. Fixed another drink as the piano man began to sing that song. Nay, na, na, na. e tra l'è una notica. Ma fornino λέite che ci farebbe? Grazie.